Il mare di Napoli continua ad essere protagonista di tribolate vicende amministrative e liti giudiziarie, in particolare a finire per l'ennesima volta l'attenzione del Tar Campania e la vicenda di Palazzo Donnanna e del Bagno Elena. Il nodo è sempre lo stesso, il cancello d'accesso alla spiaggia libera gestito dal Bagno Elena e per l'ennesima volta il Tribunale amministrativo torna a sostenere il principio per il quale il libero accesso al mare debba essere tutelato, dando ragione ai comitati per mare libero, pulito e gratuito. E così il Tar ribadisce l'annullamento delle successive ordinanze dell'autorità portuale che stabilivano la chiusura del cancello durante la stagione invernale. E non solo, i giudici amministrativi nominano il prefetto di Napoli come commissario ad acta per il pagamento delle spese legali, a cui viene condannata l'autorità portuale vista la perdurante inerzia dell'autorità debitrice. Ascoltiamo Rosario Nasti, attivista a mare gratuito, libero e pulito. Il cancello però è solo una briciola della questione generale. Noi ci battiamo per il libero accesso al mare, che è un diritto di tutti, perché esistono le regge dello Stato che l'accesso alla battigia è consentito in tutti i luoghi, anche nelle spiagge in concessioni e i concessionari non si possono opporre. A Napoli invece i concessionari si credono proprietari, loro sono concessionari, quello è demanio pubblico, è demanio marittimo, cioè spazio ad utilizzo collettivo. Quindi questa questione del cancello è chiusa, ma cancelli a Napoli ce ne stanno tanti. Quello è solo il primo. La nostra battaglia continuerà per tutti i cancelli, cominciando da Riva Fiorita, per tutti i cancelli privati che alla luce di questa sentenza, dato che fa giurisprudenza. Noi si è creato il precedente e quindi proseguiremo.